Andrea Cagnetti, titolare insieme al fratello Enzo di Ferramenta Marconi Group, una realtà consolidata a Roma da oltre 30 anni, quasi 40, che è nata grazie al papà Emanuele e che oggi diciamo è un'azienda di famiglia nella quale collaborano anche i figli tuoi e di tuo fratello Enzo. Ferramenta Marconi Group nasce come ferramenta ma oggi i servizi che offre quali sono? I servizi che offremo oggi sono servizi di duplicazione in chiavi, siamo specializzati nella duplicazione di qualsiasi tipo di chiave al mondo, duplichiamo chiavi per auto, anche quelle di nuova generazione elettronica, siamo rivenditori autorizzati delle più note marche di serrature, offriamo un servizio di assistenza tecnica, consulenza e soprattutto anche un servizio di pronto intervento H24. Quando parli di consulenza esattamente cosa intendi? Allora noi prima di vendere un prodotto cerchiamo di capire le esigenze del cliente, il cliente può avere esigenze più disparate, noi cerchiamo di percepire intanto quanto vuole aumentare la sicurezza della sua abitazione e di conseguenza a questo cerchiamo di consigliarlo per il meglio. Approfittiamo allora per dare qualche suggerimento su come rendere sicura la nostra casa. Premesso che l'86% dei furti che avvengono nelle abitazioni civili avvengono attraverso la porta, il consiglio nostro è quello di far visionare la propria porta blindata da un tecnico qualificato, di modo che si stabilisce se va fatto qualcosa, se vanno fatte alcune migliorie e soprattutto di installare una serratura di classe 6. Le serrature vanno da classe 0 a classe 6. Il consiglio nostro è quello di installare comunque sempre una serratura che abbia una tracciabilità della chiave e del rivenditore, di modo che nel momento in cui si installa una serratura del genere si ha una tracciabilità totale. Nella fattispecie esiste la fabbrica che produce il cilindro, il rivenditore autorizzato che è il proprietario e il rivenditore del profilo e il cliente finale che è il proprietario di casa. Grazie allora per questi consigli preziosi, visto che i ladri sono sempre dietro l'angolo. Grazie a lei, arrivederci.